Sto viaggiando lungo il Molise dei Sapori per raccontare e suggerire a turisti e viaggiatori del gusto territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. Uscendo da Termoli si inizia una panoramica salita verso le colline dell'entroterra molisano, regno incontrastato di vite e ulivi. Lungo uno stretto altopiano tra il torrente Sinarca e il fiume Biferno si giunge a Guglionesi, antico centro benedettino, oggi grosso paese agricolo situato in posizione dominante. All'intorno, levemente di gradanti verso la costa, le alture sulla sinistra della bassa valle del Biferno, costituiscono la principale zona vinicola del Molise, con circa 400 ettari di vitini doc. I disciplinari tutelano i vini molisani con una doc Molise, a larga estensione regionale, una IGT, Osco o Terra degli Osci, comprendente il distretto di Campobasso, e la doc Biferno, che ha in Guglionesi uno dei suoi centri produttivi di punta e Montepuciano, Trebbiano Toscano e Aglianico, per i rossi, Trebbiano Toscano, Bombino Bianco e Malvasia Bianca, per i bianchi, i vitigni tradizionali dominanti. Doc Biferno a parte, spazio crescente nelle scelte dei vinificatori, trovano vitigni autoctoni, quali Falanghina, Fiano, Greco, fra i bianchi, ellenico e prugnolo, fra i rossi, e un moscato reale da cui si ricava un interessante passito. Il mare è vicino, ma la cucina sente gli influssi di un'agricoltura che si fa via via più pastorale, legata ai prodotti di stagione, quindi verdure e largo uso di carni di agnello e di pecora. Montenero di Bisaccia, centro d'antica atmosfera posto su un colle della bassa valle del Trigno, gode di fama speciale per gli insaccati, in particolare la ventricina, carne magra di coscia e lardo tagliati grossolanamente, variamente insaporiti, insaccati nella vescica così da assicurare all'impasto durevole morbidezza. Della salumeria locale sono rinomati anche la soppressata, salame pregiato a grana medio-grande, e il sassigiotto, insaccato di piccolo calibro, leggermente affumicato. Guglionesi, in dialetto locale si dice guinisce. È un comune molisano della provincia di Campobasso, il più esteso della regione, i cui abitanti sono detti Guglionesani. Dall'alto di una collina, in un paesaggio segnato dai colori dei campi coltivati, dal blu del mare Adriatico all'orizzonte e dalla dolcezza della valle del fiume Biferno, questo comune è una scoperta piacevole per il visitatore. La parte più emozionante è quella dell'antico borgo medievale, racchiuso da tre strade principali parallele, lungo i tre assi principali, via Galterio, Corso Conte di Torino, via Roma, via Guiscardo, collegati da una rete di vicoli e che conserva alcuni dei monumenti più interessanti del Molise, come la chiesa di Santa Maria Maggiore, con l'elegante cripta di Sant'Adamo, e la chiesa di San Nicola, uno degli esempi più significativi dell'arte romanica in Molise. Ti consiglio di raggiungere il Belvedere nella parte più alta di Guglionesi, perché è uno dei punti più panoramici della regione, dal quale è possibile ammirare i campi di grano, il corso del fiume Biferno e le acque del lago di Guardalfiera. Davanti ai tuoi occhi vedrai le terre rese famose dallo scrittore molisano Francesco Iovine nel libro Le terre del sacramento. Secondo alcuni studiosi il toponimo Guglionesi deriverebbe dalla Guglia, che è una pianta caratteristica che nasceva proprio sulle sponde del fiume Biferno. Per altri invece il nome deriverebbe dalla combinazione di Colle Nisius, ossia Colle di Nisio, che alluderebbe a Bacco. Colle Nisio, infatti, fu uno dei suoi nomi, prima di assumere il nome attuale di Guglionesi. Nei suoi Annali degli Abruzzi, l'Antinori ne dà notizia come Colle di Nisio. Gull è anche come Guilloniaco e Collonisi. Fu fondata dai Frentani, popolo italico affine ai Sanniti, nel 435 a.C. Nell'agro di Guglionesi sorgeva allora il centro abitato di Usconium, che ebbe molta importanza durante l'era preromana, importanza che conservò anche in epoca romana. Nel 1060 il conte Normanno Goffredo, aiutato dal fratello Roberto il Guiscardo, che era già diventato duca di Puglia, Calabria e Sicilia, grazie all'investitura di Papa Niccolò II, invase e conquistò il contato di Termoli, di cui il castello di Colle di Nisio era uno dei presidi militari più importanti. Il paese del Medioevo fu un importante punto di riferimento sociale, economico e artistico del territorio. Per secoli i Vescovi di Termoli posero le loro residenze a Guglionesi, in quanto la cittadina, posta sull'Adriatico, era costantemente sottoposta ad attacchi turchi e quindi il paese guglionesi era più sicuro. Fu così che a Guglionesi sorse anche il primo seminario della Dioceci, sopravvissuto fino all'incameramento dei beni ecclesiastici, attuato con l'Unità d'Italia.